Gianni, Antonio è Natale, anche se sei fuori stagione, è Natale, è Natale, metto la mascherina così non mi riconoscono, la mascherina si mette per evitare di avere la muta e basta, pure tu lo sai maestro, senti un po', stavamo dicendo come ti posso mandare su whatsapp quella mail che ho scaricato, no io whatsapp non ce l'ho perché preferisco vivere, come non ce l'hai, non stai in un gruppo di mamme in un gruppo della, ma non parlammo, c'è nude, no, a parte di gruppi non è di mamme perché di mamma ce n'è una sola e meno male, pinze ci entriò qua, anche perché mamma certa, papà no, questo è anche vero, vabbè te la mando in email chi? quella cosa l'altra, te la mando in email, ce l'hai in email? no, no, il fruttivento qua, no, non email, quell'email, l'email non c'ho, non c'ho l'email, no, no, io c'ho il telefonino il quale è stato inventato fra l'altro senza fili che se tu camminando dove vai in giro beh, suona, e non vuoi restare a casa fissa, andare a aspettare la telefonata, puoi anche andare in giro, come fanno in molti tutti questi telefonini, io c'ho questo, che questo, o chiamo o ricevo, al massimo qualche messaggio il messaggio però c'ho la terrazza, accendo il fuoco, prendo la coperta e faccio come l'indiano l'evoluzione, l'evoluzione no, cioè il progresso, il regresso, pubblicità regresso, facciamo la pubblicità regresso il progresso, siccome il resto è finito tutto, non c'è più un criterio per qualsiasi cosa, un la mattina si alza e si mette a fare un teatro si alza e faccio un giornalista, devo dire la verità, quando è arrivato il virus, il covid, ho detto, madonna finalmente, almeno fa un po' di pulizia e invece no, perché chi che me ne fa un teatro, faccio la stessa e lo so, pazienza accettate il banco, tu c'hai il banco, ma almeno no, no, io appena prendo i soldi in contatto, li spendo subito, non si sa mai la filo dai il problema? no, non esiste la banca, la cosa, tutto a posto maestro, lei mi illumina sempre d'immenso anche lei, è vero la seguo sempre, diciamo dal cellulare e l'avevano regolato? no, no, a memoria ragazzi, io volevo fare un discorso serio sull'evoluzione della specie non ci pensare proprio niente vabbè, Natà, e quindi? e allora? purtroppo è successo è successo, che cosa è successo, Natà? è successo che la mascherina ah, questa roba qua vabbè, signori Einstein lo diceva Albert Einstein disse la vita è un sogno e poi ci sveglieremo ok, allora vado a dormire ciao 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 ciao